Naturalmente non poteva mancare in un telefono orientato ai giovani un ampio compartimento di giochi con cui divertirsi nel tempo libero. Per esempio nella categoria delle demo abbiamo giochi come Tetris oppure abbiamo Brain Genius che sono giochi che sfruttano le funzionalità touchscreen ma la cosa più importante è che LG in touch grazie alla sua tastiera QWERTY estesa ha la possibilità di offrire un tipo di gioco più vicino a quello delle console portatili. Possiamo vedere per esempio Prince of Persia 0 che è stato adattato da Gameloft appositamente per sfruttare appieno la tastiera QWERTY. Quindi avviamo il gioco. Ecco Prince of Persia. Avviamo una nuova partita. Eccoci qui al controllo del nostro principe. Possiamo utilizzare come vedete i tasti direzionali che troviamo nella parte in basso a destra e poi possiamo utilizzare la parte con la W, la E e la R per saltare oppure la Z, la X e la C per chinarci. In questa maniera possiamo avere un tipo di gameplay che è sicuramente più vicino al gameplay di una console portatile offrendo un'esperienza di gioco del tutto innovativa per quanto riguarda un telefono cellulare. Stessa cosa la possiamo dire per un altro gioco che è English Training. English Training in questo caso l'abbiamo selezionato per unire come si suol dire l'utile al dilettevole. Quindi abbiamo la possibilità di imparare l'inglese divertendoci e non solo perché in questo caso anche grazie all'ottimizzazione con la tastiera QWERTY sarà un gioco propedeutico proprio per prendere confidenza con questa tastiera estesa. Quindi avviamo divertiti con l'inglese. Ok quindi iniziamo la nostra sessione quotidiana di training. Inseriamo il nostro nome come vedete direttamente con la tastiera QWERTY. sfruttiamo anche il touch. Iniziamo la nostra prova. In questo caso possiamo selezionare la risposta giusta sia utilizzando il touch oppure un po' più brillantemente possiamo utilizzare la nostra croce direzionale e il tasto di conferma oppure direttamente la lettera corrispondente alla risposta che vogliamo selezionare. I giochi Gameloft saranno sempre in aggiornamento perché sul portale di Gameloft saranno sempre disponibili dei giochi nuovi per ottimizzati con la tastiera QWERTY. In questo modo possiamo dire abbiamo un duplice modo per divertirci con LG in touch. Uno che è quello standard utilizzando i giochi touchscreen e un altro invece che è quello più evoluto utilizzando la tastiera QWERTY.